Sport, mare, divertimento e amici da tutta Europa. Il tutto nella splendida cornice del Bella Italia Village di Lignano Sabbia d'Oro. Bel 28 luglio al 3 agosto scegli ICS International Youth Sport Camp, il camp estivo sportivo internazionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport. Se hai tra i 14 e i 19 anni, l'ICS International Youth Sport Camp è il luogo ideale per divertirsi, facendo amicizia con ragazze e ragazzi di tutta Europa e della tua età. Insieme faremo tanto sport e ne inventeremo di nuovi, ci divertiremo collaboratori di gruppo e miglioreremo il nostro inglese. E poi feste, giochi di gruppo e attenzione alla parità di genere e alla sostenibilità ambientale, gli impegni sociali a cui teniamo di più. Iscriviti ora! Per i soci a ICS il camp costa solo 250 euro, tutto compreso. Per informazioni www.ics.it Per iscriverti scrivi a youthsportcamp.ics.it